Immagio fatta, ma questo il negozio lo dovevo tenere proprio a passare su chi? E che puoi fare Gennaro? Iam, 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 iam Vai qua, ti ricordo che è sfacchinato, però mi valeva proprio la pena Gennaro, ma ora ti sei riposato? Si, ormai ti sei ripresa Vai qua, ma che lei non si vede No, perché avevo pensato di prendergli pure io delle più Allora Mi ha compagnare insieme a passare su chi? Mi ha compagnare insieme a passare su chi? Gennaro, non ti capisco Gennaro, mi accompagneresti a passare su chi? Gennaro, mi accompagneresti a passare su chi? Gennaro, o vuoi avere solo tu o te le più? No Gennaro, io ti accompagnare però No, Gennaro, non si fa così No Gennaro, non si fa così Sbanco, il nuovo grande concorso di Tele più Se sei abbonato, hai tutti i numeri per vincere Sbanco 8 Oscar di cui uno a Marlon Brando per l'indipenticabile dramma diretto da Ia Casana Alle 19, fronte del porto A seguire, un giallo diretto da John Schlesinger tratto da un libro di Ian McEwan Con Anthony Hopkins e Isabella Rossellini, The Innocent Kenneth Branagh dirige Keanu Reeves nella rivisitazione di Shakespeare Per il ciclo dedicato al giovane attore alle 23.05 Molto rumore per nulla Sulla strada può succedere di tutto Per questo Citroen Xantia è dotata di sospensioni attive e ABS Naturalmente Xantia ha anche l'abitacolo rinforzato Xantia Tele più consiglia la visione di questo film ai maggiori di 14 anni